buongiorno buongiorno a tutti siamo collegati con marcello pacifico presidente nazionale anief buongiorno pacifico buongiorno a tutti voi allora pacifico è stato da poco finalmente pubblicato dopo oltre un anno di attesa il dpcm sulla nuova formazione dei docenti un dpcm che prevede quello che era stato già deciso dalla nella vecchia legislatura una un abbondante incremento delle cfu i crediti formativi universitari e un nuovo percorso io credo che sia opportuno comprendere innanzitutto i contenuti fare una sintesi e di questo dpcm e soprattutto sentire cosa ne pensa il vostro sindacato rappresentativo del comparto scuola guardate allora abbiamo abbiamo cercato di modificarlo fino all'ultimo c'è il decreto pabis che in questo momento è sotto il vaglio del parlamento ti trasformerà in legge che è intervenuto con delle modifiche quali sono le modifiche che poi ha richiesto anief e ha lottato anche per ottenere queste modifiche la prima modifica quella più chiara e quella più evidente è di permettere ai precari della scuola italiana e quindi chi ha 36 mesi chi ha fatto il concorso straordinario chi ha lavorato nelle scuole paritarie guardate che negli ultimi anni chi lavorava nelle scuole paritarie nonostante fosse un sistema nazionale di istruzione era escluso da tutte le procedure sul reclutamento e in più anche abbiamo esteso per i 60 cfu anche a chi ha lavorato nei sistemi regionali i famosi percorsi fp quindi che cosa faranno tutte queste persone tutti i precari che hanno più di 36 mesi di servizio potranno avere un accesso su quota riservata e 60 cfu questa è una cosa è dal 2014 che non c'erano corsi abilitanti per i precari anche poi non sappiamo c'è una procedura più semplificata dai 30 cfu e siamo riusciti vi ricordate i docenti fantasma quelli di ruolo che dal 94 non potevano più abilità un testo unico prevedeva che potessero pigliere un'altra abilitazione con corsi fatti dallo stato e purtroppo dal 99 ad oggi non l'hanno potuto fare quindi i docenti di ruolo potranno accedere ai percorsi di 30 cfu potranno accedere anche 30 cfu i precari con 36 mesi del concorso straordinario ci sarà un ordine del giorno approvati in questi giorni che dirà di estenderlo anche ai percorsi di fp per fare che cosa questo per finalmente avere dei precari i docenti precari che hanno la possibilità di abilitarsi è assurdo nella nostra scuola italiana avere 220 mila docenti e più della metà senza abilitazione io penso anche ai corsi di sostegno le novità quali sono di questo dpcm e guardate il decreto fi abis ha fatto delle novità non ci sarà più una prova selettiva sui contenuti disciplinari la prova selettiva sarà sui contenuti socio psico pedagogici e sulla didattica questo perché perché andremo a verificare i contenuti sull'orale sul disciplinare quindi finalmente andiamo anche a semplificare le procedure di accesso e poi un'altra cosa importante di questo dpcm sarà approvato mentre stiamo parlando ed è importante la legge ovviamente che è cambiata e quindi il dpcm si dovrà riferire alla legge sarà possibile seguire i corsi per i prossimi due anni in modalità telematica a parte il tirocino da fare in presenza questo che cosa vuol dire che è stato abolito il numero massimo il tetto massimo di abilitazioni da dare chiunque insegna nella nostra scuola finalmente potrà se si mette in gioco e se studia e se si prepara potrà avere la sua abilitazione e quindi finalmente i nostri alunni avranno insegnanti anche abilitati questa guardate è da dieci anni è una vittoria dell'anief e noi la stiamo portando avanti da tempo finalmente è un primo segnale poi ovviamente noi avremmo voluto abolire i test perché era precario perché se insegni da anni non devi non devi fare dei test devi solo dimostrare che ti meriti quell'abilitazione però è un primo passo iniziamo così questo significa che il governo tra l'altro nel pnr presentato alle camere il 31 luglio nella relazione che c'è in parlamento dice che il governo ha chiesto dalla commissione europea di avere un anno di tempo nel 2023 2024 formerà questi insegnanti poi ci sarà il nuovo concorso e quindi chiede alla commissione europea di non fare le 70 mila emissioni ruoli del pnr a rente il 2025 mentre il 2026 quindi è un percorso che stiamo facendo insieme però per la prima volta quelli del concorso straordinario bis i docenti di ruolo i cosiddetti docenti ingabbiati cioè tutti coloro che ci chiamavano ci scrivevano tanta mobilitazione in questo anno hanno una prima risposta è una prima risposta anief non è un partito anief un sindacato abbiamo portato avanti le nostre azioni in parlamento e questa è una prima risposta continueremo a lavorare siamo sicuri che andando su questa linea finalmente potremmo avere poi il risultato che tutti gli italiani vogliono alle italiane cioè avere degli insegnanti a scuola con una certificazione di all'abilitazione anche sul sostegno e che poi quindi siano sempre più preparati ma soprattutto non andiamo a andare soprattutto ad attaccare i precari come se fossero delle persone estreme nella nostra scuola i precari sono quelli che le fanno funzionare e quindi finalmente diamo ai precari la possibilità di andare a certificare quelle competenze che hanno fatto durante gli anni di servizio a proposito di competenze c'è chi lamenta un eccesso di cfu si è passati da 24 a 30 e poi addirittura 60 e poi volevo chiedere per chiarire i corsi saranno a pagamento che i corsisti dovranno pagare una tassa insomma si parla di circa 2000 euro ad abilitazione ecco questo aspetto secondo voi e secondo appunto l'ANIEF è insomma si poteva fare meglio su questo da questo punto di vista si dovrà fare meglio la formazione deve essere gratuita allora se io come stato ho bisogno di un insegnante io lo lo formo lo stato deve formare gli insegnanti deve riuscire a fare in modo di avere insegnanti sempre più preparati questa è una cosa per noi molto molto fondamentale è vero in questo decreto si parla in questo momento di formazione a carico dei dipendenti però bisogna anche dire che nel contratto abbiamo inserito una clausola dove andiamo a dire nel contratto che la formazione è gratuita non deve essere fatta in orario di servizio se non deve essere retribuita questa è una cosa fondamentale nel contratto ANIEF è stato l'unico sindacato che negli anni scorsi e da due anni che esiste una sentenza della corte di giustizia europea che ci dice su un caso rumeno del dipendente pubblico che la formazione è una direttiva del 88 del 2003 che dice che il personale deve essere retribuito io non posso pensare in un'azienda privata il lavoratore formato viene pagato nel pubblico ti devi pagare tu e poi si lamentano tutti di chi se ne va all'estero pagando il doppio dei soldi ma dico perché pagare la metà dei soldi in italia è legale e allora a un certo punto bisognerebbe interrogarsi su queste cose noi siamo del parere che la formazione deve essere retribuita evidente hai ragione è così scritto nel testo cercheremo di cambiarlo non può essere questa non voglio usare parole grosse non mi va di usarle però non la parola più tenue sarebbe ricatto non 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 chi deve essere formato abbiamo fatto questa battaglia da vent'anni io penso alle sis cioè uno si pagava una propria formazione per diventare insegnante allora se tu come stato mi metti in un circuito per diventare insegnante tu come stato mi devi dare il più libero accesso a questo circuito e tu mi valuti se io non sono degno non mi è chiaro pacifico sui 60 cfu è un incremento eccessivo ci può stare ma guardate a tempo delle sis vent'anni fa si facevano due anni che sarebbero 120 cfu voi sapete con la riforma universitaria siamo passati dalle vecchie lauree quadriennali e quinquennali alle lauree specialistiche e quindi magistrali e quindi ogni anno corrisponde a 60 cfu prima per diventare insegnante nel 2000 dovevi laurearti per esempio in lettere con l'area quadriennale e poi fare due anni di sis per scuola di specializzazione oggi 3 più 2 più 1 non è non è un qualcosa che stravolge le menti sono gli accordi di lisbona del 1900 alex 88 siamo nel 2023 cosa è successo però questo lo voglio denunciare visto che ci stiamo parlando che a un certo punto si è abbandonato il sistema della formazione iniziale nel 2009 si sono chiuse le sis si sono fatte alcuni corsi abilitanti nel 2014 per i precari e poi si è pensato di risolvere tutto con i concorsi straordinari i concorsi straordinari almeno nove procedure bandite dal 2015 ad oggi hanno aumentato del 220 per cento il numero dei precari primi invece avevamo il doppio canale si abilitava si inseriva in GAE grazie anche ad ANIF inseriva in GAE e entravi di ruolo oggi invece sul doppio canale ai residuali noi abbiamo lottato siamo riusciti recentemente ad assumere dalle gps su posti di sostegno ma guardate che sono la metà dei posti che il ministero il MEF certifica non quelli reali quelli che certifica e l'obiettivo futuro sarà quello di estendere questo certo quindi andare a ridurre anzi a cancellare le cosiddette tereo e l'organico di fatto e pacifico un'ultimissima domanda quindi mi sembra di capire che voi avete delle speranze che possa essere modificato in corsa il regolamento che porta alla nuova formazione oppure il dpcm che è uscito oggi bisogna prenderlo per oro colato innanzitutto abbiamo chiesto al ministro di avere il dpcm vorremmo leggerlo perché ancora un informativo sul dpcm essendo dpcm non è del ministro valditara e del governo meloni quindi della presenza del consiglio quindi vorremmo avere un'informativa innanzitutto su questo testo perché è un confronto sulla formazione al personale daremo le nostre osservazioni c'è un penso che quella di oggi sia stata provata in forma di bozza spero non definitiva daremo le nostre osservazioni comunque oggi ormai il parlamento sta chiudendo per due settimane quindi se ne parlerà certamente nella ripresa estiva può essere che in corso d'opera guardate il decreto a pia bis approvato che sta per essere approvati in questi giorni sta modificando tante cose nessuno ci credeva più quindi può essere che magari legge di bilancio ci saranno ulteriori modifiche per poter garantire il principio fondamentale vorrei ribadire avere insegnanti precari che lavorano nelle nostre scuole con l'abilitazione con la specializzazione sul sostegno e poi conseguentemente stabilizzarli perché sennò con la precarietà si viola la continuità didattica bene ringraziamo marcello pacifico presidente nazionale anief grazie a tutti voi grazie 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 grazie